Un altro weekend di Movida blindata. Restano in vigore i limiti dell'ordinanza firmata lo scorso 4 febbraio dal sindaco di Firenze Dario Nardella che dispone il divieto di stazionamento nelle aree a maggior rischio assembramenti nei giorni di venerdì e sabato, dalle 18 alle 22. L'area interessata dal provvedimento sarà ancora quella intorno Piazza Sant'Ambrogio, una delle più frequentate dai giovani della città. Se necessario continueremo a mantenerla soprattutto se la situazione del contagio come in queste ore, in questi ultimi giorni, continua a crescere. Palazzo Vecchio ha tenuto a sottolineare che nel primo weekend l'ordinanza per prevenire gli assembramenti ha assortito l'effetto sperato. Provvedimenti che i residenti vorrebbero estendere anche a Piazza Santo Spirito, altro ritrovo della Movida. I cittadini chiedono una cancellata lungo il Sagrato della Basilica, teatro, lo scorso fine settimana. Anche di una protesta degli anarchici. Per questo fine settimana la manteniamo nell'area di Sant'Ambrogio per stabilizzare la situazione in quella zona che resta la più esposta. Poi è chiaro che se si dovessero muovere i flussi, si dovesse spostare la Movida, noi saremo più veloci della Movida. E quindi andremo a lavorare dove c'è il potenziale rischio di un aumento di assembramenti nelle fasce serali.